Cercare il regno di Dio rende la vita degna di essere vissuta, la rende completa. E questo è il nodo centrale dell'omelia odierna del Papa in casa Santa Marta. Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore con questa magnanimità. Perché ha il tutto che è Gesù Cristo, le altre cose sono il nulla. Sono buone, servono, ma nel momento del confronto sceglie sempre il tutto. Con quella mitezza, quella mitezza cristiana, che è il segno dei discepoli di Gesù. Mitezza e magnanimità. Da questi atteggiamenti nasce la giustizia incarnata da Gesù, quella del porgere l'altra guancia. E vivere così non è facile, perché davvero ti danno delle schiaffie. Ti danno e su tutte e due guance. Ma il cristiano è mite. Il cristiano è magnanimo. Allarga il suo cuore. Ma quando noi troviamo questi cristiani, col corassone ridotto, col corassone rimpicolito, che non vanno... Questo non è il cristianismo. Questo è l'egoismo mascherato dal cristianismo. Seguire Gesù non è facile. Non è facile. Ma neppure è difficile. Perché nella strada dell'amore il Signore fa le cose in un modo che noi possiamo andare avanti. E lo stesso Signore ci allarga il cuore. È l'egoismo mascherino. È l'egoismo.